Sono stati arrestati i tre responsabili delle cinque rapine del supermercato UNES di Dorzano, avvenute tra settembre 2012 e gennaio 2013. La polizia stradale e la squadra mobile della questura di Biella hanno denunciato un 22enne responsabile dell'incidente avvenuto il 2 febbraio scorso nel cuore della città. Centinaia di persone hanno preso parte a One Billion Rising, un'iniziativa per denunciare la violenza che coinvolge ogni giorno un miliardo di donne nel mondo. L'istituto scolastico Bona compie cent'anni e per l'occasione mette in campo molte iniziative. Il futuro del basket biellese è sempre più caratterizzato da tinte nere. I soci, per non chiudere la società, chiedono ulteriori aiuti pubblici e privati. Buongiorno dalla redazione di Biella, subito in primo piano una notizia dell'ultimo ore. È stato arrestato il direttore della UNES di Dorzano. Si tratta di Davide Pattaro, 33 anni, di Vigliano biellese. Sono stati arrestati anche due complici, Rocco Lamanna, pregiudicato di 52 anni, residente a Vigliano, e la sua convivente Antonella Giuliani, di 47 anni. L'accusa è rapina per le 5 rapine avvenute nel supermercato tra il 30 settembre 2012 e il 26 gennaio 2013. Nell'abitazione è stata ritrovata la mitraglietta usata nelle rapine, il passamontagna, scanner, guanti ed altro materiale usato nelle rapine. Maggiori dettagli nelle prossime edizioni perché si è da poco conclusa una conferenza stampa presso il comando dei carabinieri di Biella e si ipotizza anche il coinvolgimento di un terzo complice. Ed ora un'altra notizia perché è stato che riguarda la polizia. È stato individuato dalla polizia stradale e dalla squadra mobile della questura di Biella il responsabile dell'incidente avvenuto la notte di sabato 2 febbraio in Via Italia, nel cuore della città. Il 22enne è stato individuato a partire dai ridotti indizi raccolti dalle poche persone che hanno assistito al fatto e dopo un'attenta attività investigativa gli agenti sono risaliti dapprima all'automobile successivamente al responsabile. Il giovane dopo aver investito una persona che camminava insieme ad altri amici in piena zona pedonale si era poi dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. La patente è stata ovviamente sequestrata e il giovane biellese è stato denunciato per omissione di soccorso e per essere fuggito dal luogo dell'incidente. Ed ora un'altra notizia veramente giunta da pochi minuti in redazione. La situazione per la provincia di Biella diventa veramente critica. I bilanci hanno evidenziato tutto il rosso possibile. Il commissario Angelo Cioni, per evitare ancora, se possibile, il rischio di sesto, ha chiamato Biella un vice che arriverà da Ferrara ma che è nato qui e si chiama Massimo Zavagli, esperto in finanza pubblica. Zavagli, ex segretario e direttore generale a Candelo, è arrivato ieri e tornerà un paio di giorni ogni settimana per passare al microscopio i conti della provincia. Ed ora parliamo di sport e vi abbiamo anticipato ieri qualcosa. Il futuro del basket biellese è sempre più fosco. I soci della società Angelico Palacanestro Biella chiedono ai soggetti pubblici e privati di investire denaro appena alla fine dell'attività. Sentiamo Mattia Ferrero. Freddo e distaccato, con questi due aggettivi si potrebbe descrivere il comunicato stampa diramato dalla società Angelico Palacanestro Biella. L'assemblea dei soci di Palacanestro Biella ha deliberato infatti di procedere in tempi brevissimi a un versamento straordinario che consente alla società di continuare a essere in regola con i parametri indicati dalla Comtec e affraffronta i propri impegni come tradizione. In parole povere la società cercherà di onorare i propri debiti. E per il futuro? Semplice. La società, si legge chiaramente nel comunicato stampa, in assenza, nell'immediato futuro, di risposte positive da interlocutori pubblici e privati che consentono sia di chiudere con serenità la stagione in corso, sia di pensare a un futuro dignitoso, l'assemblea dei soci ha espresso all'unanimità l'intenzione di porre termine a fine stagione all'attività ventennale di Palacanestro Biella. Richiesta ardita quella che giunge dai piani alti di via 20 settembre. Ardita perché, come ricordati i nostri precedenti servizi giornalistici, il privato, come il pubblico, ha sempre risposto positivamente all'appello della società laniera, sbattendo talvolta la porta in faccia ad altre società sportive, meno elitare forse, ma di uguale se non maggiore attrattiva di pubblico. A riguardo, sponsor storici che da anni versano soldi nelle casse della società stanno seriamente pensando di chiudere i rubinetti una volta per tutte. A esempio, Antonio Trade, imprenditore locale, sarebbe dell'idea di, se si vuole cambiare marcia, rivedere i contributi dei manager. Chiedere dunque ulteriore denaro, ora che la squadra è seriamente rischio e recessione, ci sembra, appunto, ardito. Ed ora la nostra inchiesta tra i biellesi per sapere come la pensano sulla vicenda. Sentiamo. Il futuro del Palacanestro Biella sembra davvero riempire o mai le cronache dei giornali, delle televisioni locali, ma alla gente di Biella, a quanti seguono il basket? A quanti importa il suo futuro? Scopriamolo dalla nostra inchiesta. Ho trovato una che... Non se ne intende? No. Ma lei la guarda Palacanestro? No. La che ce la segue? No. Mi spiace, ho trovato proprio la persona... La segue molto anche. Ecco, sa comunque la situazione. Ieri la società ha riunito i soci e i soci hanno chiesto, e la società ha chiesto i soci, o ci date soldi pubblici e privati oppure noi non abbiamo avuto. Lei ritiene giusto questo? L'ho letto proprio stamattina sia sulla stampa che l'ho sentita anche per radio. E io lo trovo giustissimo. Dovrebbero intervenire anche gli istituti qui italiani biellesi. Lei segue la Palacanestro? No, non è uno sport che mi interessa. Non lo so, non ho idea. Per me se c'è o non c'è non fa differenza. E lei? Anche per me. Non seguendo la... Ci sono altre cose? Sì, 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 sì. Grazie. Assolutamente, non sono partito di sport e non seguo. Lei è di tutto. È una richiesta giusta. Cos'è? Una squadra di Biella? Sì, è in Serie A. Dei soldi? Dei soldi per poter andare avanti? Mi sembra assurdo. Perché? Ci sono altri fini, più importanti. Io la vedo in questa maniera rispetto allo sport. Poi viene le cose più importanti e poi viene lo sport. Lo sport lo metterò in secondo piano. Devo rispondere. No, io non la seguo la Palacanestro. Le chiedo solo un commento. Ieri la società Palacanestro Biella ha chiesto ulteriori aiuti pubblici e privati per andare avanti. Se no si chiude, dicono. Cosa ne pensa? Gli aiuti pubblici, sinceramente... Ne ha già avuti in passato. Sugli aiuti pubblici direi di no. Sugli aiuti privati è diverso. Non so, decisione dei privati. Lei segue il basket? No, ho trovato proprio quella giusta. No, purtroppo no, non lo seguo. Non è che sia molto d'accordo ad essere sincera, anche se non ne capisco, però non sono d'accordo. Perché non è d'accordo? Ma perché soldi pubblici non servono sicuramente per quello, ma magari per altro. Cambiamo decisamente argomento. Centinaia di persone hanno preso parte a One Billion Rising, un'iniziativa per denunciare nel giorno di San Valentino la violenza che coinvolge ogni giorno un miliardo di donne nel mondo. Vediamo. Più di 400 sono state le persone che hanno preso parte a One Billion Rising, una manifestazione mondiale che ha coinvolto 170 paesi nel mondo ed è arrivata a Biella per merito dell'associazione Voci di Donne, il comitato Se non ora quando, Non sei sola e donne nuove. L'inizio di Via Italia è stato invaso da centinaia di donne vestite con i colori dell'iniziativa, il rosso e il nero, con lo scopo di utilizzare il ballo come mezzo di denuncia rispetto alla violenza che ogni giorno coinvolge un miliardo di donne nel mondo. Sulle note di Break the Chain, la canzone ufficiale della manifestazione, le donne biellesi hanno alzato il tono della denuncia di questi fatti che toccano anche la nostra terra. La manifestazione è iniziata verso le 17.30 e proseguita fino ad ora di cena, quando la folla pian piano si è diradata, chiudendo con grande successo per Biella questa insolita manifestazione. Come agli appuntamenti serali, questa sera alle ore 21 andrà in onda la ripresa della visita dell'onorevole Angelino Alfano a Biella, dove al teatro sociale Villani ha incontrato i suoi simpatizzanti. Vediamo. Un attimo solo, ci sono dei problemi con un servizio, andiamo avanti, parliamo di un anniversario importante per l'Istituto Buona di Biella che taglia il traguardo dei 100 anni. Molte le iniziative che verranno messe in campo a partire da un convegno, una tavola rotonda, previsti per il prossimo 23 marzo. Sentiamo. Ci troviamo all'interno di questo splendido istituto che troviamo proprio a Biella in via Gramsci, l'Istituto Tecnico Commerciale Eugenio Buona, un istituto che ha una grande storia. Nel Preside Gianluca Spagnolo. Sono previste varie iniziative per festeggiare questo centenario. La prima cadrà il 23 di marzo, anno e giorno della morte del fondatore di questa scuola, Eugenio Buona, in cui ci sarà un convegno dal titolo Eugenio Buona, investire per il futuro. Ovviamente la figura di Eugenio Buona è stata una figura illuminante nel voler realizzare questa scuola, ma di fatto poi nel tempo, in questi 100 anni, si è fatto moltissimo per restare all'avanguardia dei tempi. Assolutamente sì. La nostra scuola, se vuole vivere, se vuole continuare a creare questa professionalità elevata, questi quadri aziendali, che da sempre caratterizzano i nostri lunni, deve continuare a svilupparsi. Sia dal punto di vista delle tecnologie, sia dal punto di vista della didattica, ma soprattutto serve che il territorio creda nella nostra scuola. Ed è per questo che, proprio in vista di questo centenario, dal 23 di marzo cominceranno una serie di attività che proseguiranno per tutto il prossimo anno scolastico. Il 23 di marzo è appunto la data di morte, quindi cade il centenario di Eugenio Buona. Abbiamo organizzato un convegno e una tavola rotonda. La prima parte è proprio incentrata sulla figura di Eugenio Buona, la seconda parte interverranno ospiti illustri, ex alunni di questa scuola, che hanno avuto fortuna da ogni punto di vista e che cercheranno di trasmettere ai giovani la filosofia di Eugenio Buona, cioè il territorio che investe per i giovani, per la scuola, affinché questa tradizione biellese non vada persa. E uno speciale sull'argomento andrà in onda questa sera, dopo la sigla dei telegiornali serali, alle 19.45 e alle 23.30. Ed ora andiamo sulle piste da sci con Marco Fulcheris e la sua rubrica Meteoneve. Sentiamo. Un saluto a tutti i nostri telespettatori e all'appassionati di sci. Prepariamoci per farci una bella sciata sabato e domenica, perché avremo veramente condizioni di tempo buono, rigido ma buono. Vediamo com'è la situazione, un'alta pressione posta sulla Russia condiziona e porta tempo buono sulle nostre regioni settentrionali, soprattutto sulla Valle d'Aosta. Come sempre, in collaborazione con Cervino S.p.a., Monte Rosaschi e Pila S.p.a., vediamo com'è la condizione della neve. È un inverno molto siccitoso, ma gli impianti di neve artificiale danno un po' di sollievo alle piste di sci. Allora, in Val d'Aias e in particolare a D'Antagnò abbiamo 20.50 di neve. A Brusson, 2.000 nella parte alta, abbiamo 60.75. A Brusson, paese, la neve è zero. A Champeluc abbiamo 30 centimetri in basso, 1,10 metri alla Bettaforca. In Val d'Aias le temperature per sabato varieranno da una minima di meno 9 a 1 grado nel primo pomeriggio. Cielo soleggiato. Passiamo alla Valle dell'Is, dove a Gressonay, Saint-Jean, abbiamo 35 centimetri e un metro in cima alla West Matten. A Gressonay, la Trinité, abbiamo invece 50 centimetri e un metro e 60 a Punta Iolanda. Qua le temperature avranno un'escursione da meno 12 a 3 gradi. Sia per la Valle d'Aias che la Valle dell'Is, il tempo appunto sarà solleggiato. Vento moderato, debole, variabile da nord-est. Passiamo alla situazione di Val Tournange, dove a Breu e Cervigna abbiamo 65 centimetri in paese e due metri e cinque a Platò Rosà. Abbiamo temperature che varieranno da meno 11 gradi a meno 3 gradi. A Pila abbiamo 50 centimetri di neve con un metro nella parte più alta. Per sabato le temperature saranno da meno 8 a meno 2 gradi. Anche qui, sia in Val Tournange che a Pila, tempo solleggiato per tutto il sabato. Per la domenica c'è qualche piccola variazione nelle temperature. In Val d'Aias per domenica avremo temperature che andranno da un minimo di meno 9 a 0 gradi. Nella Valle dell'Is a Gressonei avremo temperature che andranno da meno 10 a meno 1. Qua sempre 20, ancora deboli, quasi assenti da nord-est, nord-ovest. Sono 20 variabili. Nella Val Tournange a Breu e Cervigna avremo temperature per domenica da meno 12 a meno 2 gradi. A Pila avremo temperature da meno 8 a meno 2 gradi. Per domenica, su tutte le nostre stazioni sciistiche che collaborano con il nostro emittente, avremo tempo prevalentemente solleggiato, però ci potrà essere dei passaggi di nuvolosità irregolare che però non dovrebbero portare alcun problema. E per questo weekend è tutto. Appuntamento alla prossima settimana. Ultimi sprazzi di carnevale nel fine settimana biellese, ma non solo. Nella nostra rubrica degli eventi, curata come sempre da Elena Lovero. Sentiamo. Vediamo quali saranno i principali eventi del fine settimana del biellese. Sabato a Biella al teatro sociale Villani alle 16.30, l'Italiani in Algeri, tratto dall'opera di Gioacchino Rossini. L'ingresso è libero e gratuito, fino ad esaurimento posti. I biglietti devono essere ritirati presso la segreteria dell'Accademia Perosi a Palazzo Gromolosa. Domenica sempre a Biella e sempre al teatro sociale alle 16.30, Marco Polo e il viaggio delle meraviglie. In occasione di domeniche a teatro, spettacoli adatti ad un pubblico di famiglie con bambini dei tre ai dieci anni. Ultimi sprazzi di carnevale a Biella, con la distribuzione di varie fagiolate. In riva, a partire dalle ore 12, a Biella a Piazzo, pranzo presso Palazzo La Marmora e non come di consueto a Palazzo Cisterna. A Pavignano, al centro sportivo, dalle ore 14, carnevale di bambini con giochi, animazioni e merenda. Al Vernato Test, dalle ore 14.30, distribuzione della fagiolata come a Cossilla San Grato. Carnevale anche a Cossato Parlamento e a Zubiena. Andiamo ora a Cerione, dove l'Associazione Territorio Ambiente ha proposto un'altra iniziativa. Scopriamo di che cosa si tratta. Ci sarà la presenza degli atleti olimpionici che hanno fatto la storia del nostro territorio, ma anche ovviamente una storia di una parte d'Italia. e saranno tutti presenti lunedì sera all'interno della sala cerimonia del Castello di Verrone per un convegno culturale organizzato dall'Associazione Culturale Territorio ed Ambiente. Incontriamo il Presidente Flavio Pimazzoni. Dunque, che cosa ci aspetta questa sera? È una serata di sport a 360 gradi, in cui si parlerà dello sport del nostro territorio, della polisportiva Cedas Lancia di Verone, questi impianti che sono molto belli e magari poco conosciuti. Poi si farà una riflessione sui Special Olympics, questa attrazione che è avvenuta l'altra estate e l'altra estate che ha messo il centro dell'attenzione di Biella e tutto il nostro territorio, anche sia per l'organizzazione perfetta di Ciali Cremonte che sarà ospite alla nostra serata, sia per la sinergia che ha potuto avere un luogo tra associazioni, comuni e tutti gli enti della nostra provincia. Ecco, avremo anche Elena tra i tanti ospiti, anche Elena Romagnolo, questa atleta che in effetti ricorda proprio le Olimpiadi ed è sempre molto attenta proprio a quelli che sono appuntamenti del biellese. Certo, sarà madrina della serata, la rappresentante della professionalità biellese che anche nell'Europa si fa valere. L'associazione è dunque territorio e ambiente e questo è il primo appuntamento targato 2013? Sì, abbiamo voluto iniziare con un appuntamento di alta valenza culturale, proprio in questo convegno, non si parlerà solamente di sport, avremo anche dei professori in questo campo, tipo il psicologo Carlo Marchi, che parlerà anche degli effetti psicofisici che lo sport può dare anche a livelli, a livelli, anche a questi ragazzi che si cimentano con lo Special Olympics. Possiamo già parlare di altri appuntamenti che avete in calendario? Ma abbiamo in cantiere diversi progetti, molto belli, magari ne faremo qualcuno in meno quest'anno, ma vogliamo promuovere veramente il nostro territorio, che noi amiamo il nostro territorio, non solo io, io voglio ringraziare di cuore anche tutto il mio direttivo, che mi sta sempre vicino a queste iniziative che io promuovo subito sul campo, voglio ringraziare anche l'ingegnere Luca Conciaiocco, presidente del CEDES Lancia, della Polis Postiva, che effettivamente mi ha aiutato con delle risorse anche economiche. Andiamo a teatro, stasera l'attrice Lucilla Giagnoni porta in scena al teatro sociale Villani di Biella, il lavoro dal titolo Vergine Madre, tratto dai celebri versi del 33esimo Canto del Paradiso di Dante Alighieri, lo spettacolo verte pertanto sui canti, commenti e racconti inerenti alla Divina Commedia. Da non perdere questa sera l'appuntamento con Angelino Alfano al teatro sociale, di cui non facciamo in tempo a dare un'anticipazione. Con questo è veramente tutto, grazie per averci seguito, a tutti voi una buona giornata, arrivederci. Grazie a tutti, grazie a tutti.